Uffa, sono già in ritardo per andare a scuola, meno male che mi accompagna papà con l'auto. Oggi il maestro mi ha sgridato, mi ha detto che nel mondo ci sono tanti bambini che alla mia età devono camminare per ore prima di arrivare a scuola. Oltre ad aiutare le loro mamme nei campi e con i fratelli più piccoli. Allora gli ho chiesto, e perché non gli portiamo tante bici? Così anche loro potranno arrivare a scuola in tempo.